E beh ragazzi sono il Gilb e sono qui oggi tornato a portarvi quello che secondo me può essere un video interessante per tutti voi Il video che vi porto oggi sostanzialmente è il video che spiega il motivo per il quale io non investo nella Berkshire Hathaway Contro il pensiero di tutti i youtuber che vedete in circolazione Comunque in Italia in generale c'è grande ossessione nel dire di investire nella Berkshire Hathaway ovvero il fondo di investimenti di Warren Buffett Ma oggi sostanzialmente andiamo a vedere quale è il suo portafoglio, andiamo a vedere magari le sue prime 10-15 holdings e vediamo effettivamente il perché sostanzialmente non investo Partiamo allora dalla prima azienda che Warren Buffett detiene in portafoglio, Apple, che ha una percentuale del portafoglio del 47,78% qua Ed è sostanzialmente il principale motivo per il quale non investo nella Berkshire Hathaway Sostanzialmente perché? Ve lo faccio vedere subito Il primo motivo per il quale non investo appunto è Apple Ed è sostanzialmente il perché? Perché secondo i miei calcoli non ci sono troppi margini di crescita Quindi non voglio avere un fondo di investimenti che investe il 50% del suo portafoglio in un'azione che secondo me non è destinata nemmeno troppo facilmente a fare il 10% anno per i prossimi 10 anni Essendo che io voglio performare più del 10% non mi sembra un buon investimento il 50% in Apple Ma andiamo a vedere le altre holdings La seconda, Bank of America Vediamo allora Bank of America secondo i miei calcoli quanto performerà Benissimo, attualmente c'è un marzo di sicurezza del meno 56% Quindi anche qua tendenzialmente il 10% anno non si può fare nemmeno calcolando i dividendi L'attertazione è Coca-Cola e ve lo spoilero già Anche qua secondo sempre i miei calcoli che sicuramente non sono comparabili a quelli di Warren Buffett e del suo staff Ma secondo i miei calcoli Coca-Cola ha un margine di sicurezza dell'1% per fare il 10% anno Quindi andiamo a vedere sostanzialmente il fatto che su praticamente facciamo 58% più 8% quindi sul 66% del portafoglio Secondo i miei calcoli non c'è possibilità di fare il 10% anno per i prossimi 5 anni Ma se noi scendiamo e andiamo a vederci ancora American Express possiamo vedere come anche su American Express Secondo i miei calcoli non ci sono mai di sicurezza per fare il 10% anno A questo punto qua se sommiamo anche American Express e Kraft Heinz non ve lo sommo nemmeno Perché voglio solo farvi vedere un attimo il grafico di Kraft Heinz Per dirvi che su questa qua ho ancora più sicurezza che non si faccia il 10% anno Basta guardare i bilanci non ve li sto manco a far vedere ma ne ho a vedere solamente il grafico Questo è stato l'investimento di Warren Buffett su Kraft Heinz E questa azione qua occupa il 4% quindi sostanzialmente su 66, 70 e 74% delle azioni che detiene la Berkshire Hathaway Secondo i miei calcoli non ci sono possibilità di fare il 10% anno A questo punto qua io se fossi in voi valuterei altri fondi di investimento Sinceramente per dirvi secondo me già BlackRock è potenzialmente un migliore investimento rispetto alla Berkshire Hathaway Soprattutto perché come possiamo vedere qua nella sector allocation Possiamo vedere come il 25% del portafoglio di Warren Buffett sia nel settore della finance Ma non troppo generale E sostanzialmente il 90% di quel 25% qua è praticamente in tutte banche Infatti come potete vedere sta cercando di ridurre tantissimo Infatti nell'ultimo trimestre ha venduto Vabbè ha fatto bene secondo me a ridurre la percentuale di Apple Ma vedremo nel Q4 Secondo me la ridurrà ancora di più Perché Apple ha raggiunto dei prezzi che sono spropositati Secondo i miei calcoli Al valore reale dell'azienda Possiamo vedere anche come Wells Fargo Ragazzi Wells Fargo è secondo me un bidone dell'umido Come banca Infatti sta cercando totalmente di togliere le posizioni Wells Fargo Che per me è un bidone L'unica sinceramente azione che non capisco il motivo per il quale la sta cercando di ridurre così tanto È JP Morgan Che sostanzialmente non dovrebbe subire danni come le altre banche commerciali Essendo una banca di investimento secondo me ha ancora grandi potenzialità di crescita Sinceramente anche su JP Morgan non sono convinto che possa fare ancora un 10% anno per i prossimi 5 anni Ma se proprio dovevo eliminare delle banche Sinceramente non avrei eliminato JP Morgan Ma io qua alzo le mani e dico sicuramente avrà fatto le sue valutazioni Avrà capito che effettivamente le mosse che han fatto gli porteranno benefici Ma non date per scontato che ciò che fa Warren Buffett o lo staff della Berkshire Hathaway Sia a prescindere da qualcosa di azzeccato Anche perché se andiamo a vedere la mossa che ha fatto Warren nel Q2 o Q1 Forse Q1 quando aveva completamente venduto tutte le posizioni delle compagnie aeree Possiamo vedere effettivamente come di fatto si sia sbagliato Perché l'avrebbe potuto tranquillamente vendere nel Q3 e sicuramente avrebbe perso molti ma molti molti meno soldi Come potete vedere anche sta cercando di rilanciare il settore farmaceutico Infatti ha comprato Hathaway che vi ho tra l'altro consigliato in uno dei video scorsi Perché secondo me ci sono grandi potenzialità di Crest Adesso vi apro un attimo la mia analisi su Hathaway Questa ad esempio secondo i miei calcoli è un buon investimento Perché c'è il 21% di margine in sicurezza Secondo i miei calcoli ovviamente Nell'investire in Hathaway per fare un 10% all'anno per i prossimi 5 anni Questo secondo me è stato un bel investimento Ma già Bristol Myers a me non fa impazzire Merck & Co neanche mi fa impazzire T-Mobile non ne parliamo Bank of America mi piace ma io sinceramente l'avevo ripresa a prezzi più bassi Però diciamo che lui ha voluto incrementare la posizione Aveva già tantissime azioni della Bank of America Però anche lì secondo i miei calcoli non c'è un buon investimento in sicurezza del 20% Per fare un 10% all'anno su Bank of America ora come ora Quindi sostanzialmente a mio avviso investire adesso nella Berkshire Hathaway Non è un investimento così profittevole nel lungo termine Secondo i miei calcoli Poi ragazzi ricordo sempre che io non sono nessuno Sono semplicemente uno studente universitario di economia Sono un investitore ma da lì a paragonarmi a Warren Buffett Diciamo che ce ne passa un po' Per fortuna e sta negli ultimi 5-6 anni ha aumentato la percentuale delle aziende tech Ma sostanzialmente praticamente tutta la percentuale di Apple Che secondo me tra i titoli tech è forse quella che ha tecnicamente meno possibilità di crescita Nei prossimi 5-10 anni Quindi non è che mi fa impazzire questa questione qua Ovviamente ha fatto bene come potete vedere ha anche comprato Amazon Ma vedete occupa lo 0,73% del portafoglio E a mio avviso secondo me è troppo poco American Express sinceramente non è che mi faccia impazzire In generale ha qualche buona azione secondo me Però occupano secondo me troppo piccole le percentuali Per far sì che effettivamente possa portare la Berkshire a guadagnare tanto nei prossimi anni Una bella azione Ovviamente Amazon, Mastercard, Snowflake e Trattola IPO Sinceramente secondo me non è stata una grande idea Però vedremo Stoneco è un'azienda che voglio analizzare Ma secondo me ha tantissime potenziali di ricrescita Non ho ancora avuto il tempo per analizzarla Ma secondo me è una bomba È una società fintech brasiliana Secondo me questa è tanta roba Però Teva Farm secondo me è un altro bidone Cioè ci sono tanti secondo me bidoni all'interno di questo portafoglio qua BioGent ce l'ho anch'io Pfizer ce l'ho anch'io JP Morgan ce l'ho anch'io Johnson & Johnson è una buona azienda Procter & Gamble non mi fa impazzire L'etf di S&P 500 ci sta Qua c'è l'altro Costco l'ha riduta al 100% e secondo me ha fatto bene Però dovessi dirvi su queste 50 aziende Ce ne sono poche che mi piacciono Soprattutto tra le prime 10 Che occupano praticamente Qua vedete come Le prime 20 aziende occupano il 95% del portafoglio E se io mi vado a leggere le prime 20 Ce ne sono veramente poche che mi piacciono Mi piace Coca Cola Mi piace Apple Ma non è che ci sono tanti margini di crescita Anche Bank of America non mi dispiace Kraft Heinz è un bidone Moody's U.S. Bankrupt ce l'ho avuta in portafoglio Poi l'ho venduta Questa qua sinceramente non la conosco Questa qua non la conosco Wells Fargo è un bidone clamoroso E penso che ridurrà allo 0% di portafoglio General Motors non mi fa impazzire Anzi per me non è che abbia troppo senso investirci Però alzo le mani Visa è una bella azienda AbbVie è una bella azienda Bristol Myers e Merck & Co. non mi piacciono Amazon tanta roba Maschera tanta roba Snowflake potenzialmente tanta roba Ma secondo me è entrato a prezzi altissimi Stone Co. secondo me è tanta roba come vi dicevo E ragazzi secondo me ce ne sono veramente poche che si salvano Fatemi sapere magari questo nei commenti Se avete piacere chi vi porti qualche altro hedge fund Perché secondo me ce ne sono tanti tanti migliori In primis già quello di Ray Dalio Secondo me è totalmente a un altro livello Ma staremo a vedere solo il tempo Ci dirà chi avrà avuto ragione Detto questo ragazzi ci vediamo al prossimo video Che sarà domani